C'è un po' di 16 metri, in sostanza di una fissione, si sveglia un frutto grande, molto stereotipato, molto chi ha la possibilità di essere qui. Allora, per tutte centinaia di varietà, nella zona, oltre Tiemonte, di Cori, Lune, di Pesola, fino a fine dell'Occento c'erano tutte centinaia e centinaia di varietà di meri. Pensa che la grigia di Toriana, che prende il nome da una frazione di Cuneo, questa vera qua, negli anni di Trenta, veniva spedentata in Egitto, quindi c'era...